Dieta per la stanchezza, adatta anche a chi deve dimagrire. Benvenuti o bentornati sul canale Nutrizione per la Salute, sono il dottor Ricchio Gennaro, biologo nutrizionista. La stanchezza può essere influenzata da diversi fattori, tra cui l'alimentazione. Una dieta bilanciata può aiutare a combattere la stanchezza e, contemporaneamente, supportare il demagrimento. Guidata e tagliata per una dieta che mira a ridurre la stanchezza e favorire la perdita di peso. Consigli pratici Pianificare i pasti Preparare i pasti in anticipo per evitare scelte alimentari non salutari Evitare zuccheri raffinati I picchi glicemici causati dagli zuccheri raffinati possono portare a una rapida sensazione di stanchezza. Dormire adeguatamente Un buon sonno è cruciale per la rigenerazione dell'energia. Attività fisica Esercizio fisico regolare per migliorare il metabolismo e aumentare i livelli di energia Consigli generali 1. Varietà nella dieta Includere una vasta gamma di alimenti nella dieta per assicurarsi di ottenere tutti i nutrienti necessari Ogni gruppo alimentare offre benefici unici quindi una dieta variata e essenziale per una buona salute 2. Mangiare regolarmente Saltare i pasti può portare a cali di energia e ha una maggiore probabilità di fare scelte alimentari non salutari Mangiare regolarmente aiuta a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue 3. Limitare la caffeina Mentre la caffeina può fornire un temporaneo aumento di energia, l'uso eccessivo può portare a una sensazione di stanchezza una volta che l'effetto smanisce Limitare il consumo a 1 o 2 tazze di caffè al giorno 4. Ridurre lo stress Lo stress cronico può contribuire alla stanchezza Tecniche di gestione del stress come la meditazione, lo yoga e la respirazione profonda possono essere molto utili 5. Evitare alcol e fumo L'alcol può intervenire con la qualità del sonno mentre il fumo riduce la capacità del corpo di utilizzare l'ossigeno in modo efficiente Contribuendo alla stanchezza 6. Consigli personalizzati Ogni individuo è unico e c'è qualche funzione per uno potrebbe non funzionare per un altro È sempre consigliabile consultare un biologo nutrizionista per un piano alimentare personalizzato che tenga conto delle specifiche esigenze e condizioni di salute Guida dettagliata per una dieta che mira a ridurre la stanchezza e favorire la perdita di peso Colazione La colazione è il pasto più importante della giornata e deve fornire energie a lungo termine senza picchi glicemici Opzione 1 Yogurt greco magro con musli integrali, frutti di bosco e un cucchiaino di semi di chia Opzione 2 Smoothie di spinaci, banana, una manciata di mandorle e latte di mandorla non zuccherato Opzione 3 Pane integrale tostato con avocado, un uovo sodo e una spremuta di arancia Spuntino di metà mattina Gli spuntini aiutano a mantenere stabili il livello di zuccheri nel sangue e a prevenire la stanchezza Opzione 1 Una mela con un cucchiaino di burro di mandorle Opzione 2 Carote baby con hummus Opzione 3 Un piccolo frullato di proteine vegetali Il pranzo dovrebbe essere ricco di proteine, fibre e grassi sani per mantenere alta l'energia Opzione 1 Insalata di quinoa con ceci, pomodorini, cetrioli, olive e feta condita con olio d'oliva e limone Opzione 2 Petto di pollo grigliato con verdure miste al forno e una porzione di riso integrale Opzione 3 Zuppa di lenticchie con una fetta di pane integrale e una porzione di verdure crude Spuntino di metà mattina, di metà pomeriggio Spuntino di metà pomeriggio Un altro spuntino per mantenere il metabolismo attivo e prevenire cari di energia Opzione 1 Una manciata di noci o un pezzo di frutta fresca Opzione 2 Yogurt naturale con una manciata di semi di girasole Opzione 3 Un piccolo frullato di verdure verdi Cena La cena deve essere leggera ma nutriente per favorire un buon riposo notturno e la rigenerazione muscolare Opzione 1 Salmone al forno con asparagi e una porzione di quinoa Opzione 2 Insalata di spinaci con tofu, avocado, pomodori secchi e semi di girasole Condito con olio d'oliva e aceto di vino Zuppa di verdure con una piccola porzione di legumi e una fetta di pane integrale Idratazione L'acqua è essenziale per mantenere alti livelli di energia e supportare il metabolismo Bere almeno 2 litri di acqua al giorno Integrare con tisane e tè verde evitando bevande zuccherate e alcoliche Supplementi naturali Alcuni supplementi possono aiutare a combattere la stanchezza e supportare il dimagrimento Magnesio per ridurre la stanchezza muscolare Vitamina D per supportare il sistema immunitario e migliorare l'umore Omega 3 per le loro proprietà anti-impiammatorie e benefiche per il cuore Ferro per prevenire l'anemia che può causare stanchezza Conclusione Una dieta equilibrata e ricca di nutrienti può significativamente ridurre la stanchezza e supportare il dimagrimento È importante mantenere una routine alimentare costante e integrare uno stile di vita sano con adeguato riposo e attività fisica Per personalizzare ulteriormente la dieta è consigliabile consultare un biologo nutrizionista che possa adattarla alle esigenze specifiche dell'individuo Disclaimer Gli articoli e i contenuti gratuiti forniti sono destinate esclusivamente a scopo informativo ed educativo Non intendono sostituirsi alla consulenza del medico dietologo o del biologo nutrizionista Albo dei biologi per la tutela della salute Grazie dell'attenzione Grazie